Ciao Giovanni, come stai? La festa è all'Userna Alta il 23 e 24 settembre. Una grande festa? Sì, è una grandissima festa per tutti. Hai mangiato bene? Sì. Cosa hai mangiato? Pasta al pesto. Allora la festa si chiama l'Alzheimer's First Off. Ti va di venire? No. Mi devi dire sì. Ecco così. No, no, dai, non ridere. Non fai venire la figolina. Sceria. Sceria A. Siamo due attori.